Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video della seconda stagione di Kid Oggi siamo qui su Assassin's Creed Black Flag Allora, questo gioco mi ha preso davvero un botto perché è davvero carino Almeno nel primo momento, quindi mi stavo per ammazzare Non so se si è capito, ma siamo dei pirati E laggiù ci sarebbe una missione da fare Solo io non ho minimamente voglia Quindi per arrivare fino laggiù Cioè ci saranno tanti di quei problemi E tante di quelle navi da distruggere Tante di quelle missioni da fare Che ci arriveremo tra una settimana Andiamo all'assalto della nave Cioè in realtà non ha senso quello che sto facendo Grande Ci siamo Aiuto Dai L'ho mancato tantissimo Dai, dobbiamo girare velocemente No Da lì si va sulle bombe però Li voglio abbordare Dobbiamo avere tutte le loro ricchezze Forza La bomba All'attacco Forza, forza, forza Fuoco Allora, perché devo rompere gli spagnoli? Non lo so, però Dai, dai, dai Forza, forza, forza Allora, il combat system fa schifo Veramente è lentissimo Sembra di guardare un film Perché veramente Tu clicchi un tasto e fa tutto Solo tu in pratica Tu non fai un cazzo Bella Ci arrendono La nave nostra Vedo tutto quello che possiamo prendere E ce ne andiamo Vediamo che abbiamo trovato Un po' di legname Tessuto Un pirata Dai, dai, dai Ripara la nave Guardate che bel posto No, 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 no Ma sono un coglione Vabbè abbiamo spaccato mezza prua Però E qui come minchia salgo Ma qui è impossibile salire Ma forse da qui si può Decisamente no Tra l'altro Trovo in mente Di fare dei video Vlog Settimanali In cui parlo di tutto ciò Di cui voglio parlare Insomma In cui non c'è un vero Per argomento Parlo un po' di tutto E neanche da lì E no, non si può Questa spedizione Si è rivelata parecchio inutile Sistemano Cioè qua sistema la nave Però non ci interessa Qui c'è una missione Allora Dobbiamo rubare Dello zucchero Chissà dove la gente Allora Eccolo Pedina Ma se gli sparo Ok forse non è una buona idea Non voglio niente da te Io Giustamente Dov'è? Va sulla nave Ciao Ciao Veloce 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 C'è un vento Buono No buono Ma che c'è Ma che è un bel lavoro Ora corri via Dei freddo al magazzino Con piacere No 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 Non l'ho visto Dientro anonimo Gli ammazzo tutti O scappo Che devo fare? Noi li ammazzo tutti Ma che c'è un problema Ma come sei vivo? Va bene Ora muori Grazie Ma che prova Che prova Che prova Posso Sì La diseguitiamo Vabbè 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 Ah Possiamo fare Le esplosioni Bene Inizia Vai vai Wow Un botto di roba Ha faccheggiato Sì E esploso tutto Bello Bello Missione completata Che paura C'è anche questa missione Vabbè Questo video Termina qui Noi ci vediamo Al prossimo Sempre qui Su KIDS Iscrivetevi Con il video E mettete like Con tutti i vostri amici Noi ci rivediamo Alla prossima Noi ci vediamo